Per andare a prendere davanti a Montecitorio il Vice Presidente della Camera dei Deputati Luigi Di Maio Porto Benvenuto dunque a bordo di questo abitacolo che oggi diventa 5 stelle Grazie, buongiorno, ciao Vice Presidente della Camera Di solito tocca fare il lavoro più noioso di Vice Presidente Dipende dai punti di vista Io ti dico all'inizio era veramente una cosa entusiasmante, emozionante Poi come tutte le cose si inizia a fare l'abitudine e quindi diventa un lavoro che devi portare avanti Certo quando ci sono tutti gli emendamenti, i subemendamenti, le cose più tecniche e noiose ci siamo noi Quando invece magari la seduta è più importante c'è la Presidente, lasciamo spazio alla Presidenza della Camera Però poi capita che anche le sedute con gli emendamenti ogni tanto vengono animate Tipo quella di oggi che oggi inizia nel pomeriggio, dovrebbe iniziare la discussione della legge elettorale, le votazioni saranno segrete Quindi lì sarà tutto anche importante sapere quando chiudere la votazione e quando non chiuderla Perché dalla chiusura della votazione un po' prima o un po' dopo magari c'è qualcuno che non riesce a votare E per un voto potrebbe passare qualche emendamento che fa saltare l'intero accordo della legge elettorale Questo staremo a vedere A proposito di legge elettorale, proprio una settimana fa era qui a bordo l'ex ministro della difesa Mario Mauro Che una cosa ha detto, ma questa legge non piace, anzi mi batterò perché non è possibile che sia escluso per principio Dalla possibilità di vincere un'elezione la terza forza In realtà questa è una legge progettata per far fuori la terza forza politica Io dico con le opportune prudenze che non è detto che alla prossima tornata elettorale noi saremo i terzi Non è detto, staremo a vedere questa legge elettorale come sarà composta Però io ricordo anche che alle ultime elezioni per tre punti percentuali non abbiamo preso il premio di maggioranza alla Camera Quindi ce la potevamo fare anche noi, magari non eravamo accreditati come uno di quelli che poteva vincere Però stavamo quasi per vincere alla Camera E le europee ci daranno l'opportunità di parlare più di temi che in realtà di entrare in questo meccanismo Chi vince, chi perde, il voto utile e tutte quelle cose che sanno fare bene i partiti che sopravvivono ormai da anni Da vent'anni in questo quadro Perché con la storia dei 7 miliardi e mezzo di euro alle banche e così via Hanno portato alla luce un problema enorme Cioè quanto e quanto contano le banche all'interno del sistema politico oggi L'Europa delle banche e l'Europa dei popoli è il grande bivio per le prossime elezioni europee Però ci vuole anche credibilità Cioè io lo sentirò dire da tutti questa storia dell'Europa dei popoli Sicuramente in tutti i programmi ci sarà Ma ricordiamoci che i partiti principali, Forza Italia e PD Hanno ratificato il fiscal compact, Berlusconi è quello che l'ha firmato Cioè stiamo parlando di quella classe politica che ci ha portato anche un po' in braccio L'Europa delle banche e dell'austerity Io credo che ci sia un'alta discussione all'interno del movimento Infatti quando mi parlano di dissidenti Io sono uno di quelli nel senso che nel gruppo più volte Mi esprimo in pareri contrari a quello che poi il gruppo vota a maggioranza come gruppo parlamentare Però al di là di questo poi magari ci possono essere degli scambi di tweet Degli scambi di battute che diventano un caso nazionale Come quello tra Pizzarotti e Grillo Che io ho visto, ci siamo anche sentiti Il discorso fondamentale è che Pizzarotti ha fatto un incontro con i candidati sindaci Delle prossime comunali nostri E però contemporaneamente lo staff sta certificando qualcosa come 3.000 liste a livello nazionale Perché bisogna essere incensurati, residenti Tutti quei requisiti lì, massimo di un mandato E si sono creati dei malintesi tra quelli che parteciparono a quell'incontro E quelli che adesso si vogliono far certificare la lista Quasi a vantare un diritto proprio perché erano stati da Pizzarotti Ma se dovesse andare al governo Qual è la prima cosa che dovrebbe fare? La prima cosa che dovrebbe fare è individuare subito risorse per detassare le imprese E guardi, io le dico questo Vengo da una città che è Fomigliano d'Arco Che era un po' la Stalingrado del Sud, della sinistra Ho visto troppo spesso in questi anni mettere semplicemente operai contro imprenditori Fare quella solita dualità nella quale si facevano combattere due parti sociali Che in realtà se stavano insieme aiutavano l'impresa e allo stesso tempo aiutavano l'occupazione Io credo che la prima cosa sia quella E contestualmente recuperare altre risorse per iniziare a parlare di reddito e di cittadinanza Perché siamo in un momento di crisi e anche se ci vogliamo riprendere economicamente Abbiamo bisogno di due o tre anni di ammortizzatori per riuscire a far sopravvivere coloro che ormai Hanno perso tutto Nel bilancio dello Stato a mio parere ci sono dei salvadanai sorvegliati sempre dalla solita classe politica Se noi rompiamo quei salvadanai troviamo risorse perché? A giudicare dall'entità di spesa che vogliono individuare Stiamo parlando semplicemente di questo Trasformeranno la cassa integrazione e gli cambieranno nome Invece l'idea è quella di andare oltre Arrivare a quelli lì che non hanno diritto alla cassa integrazione Che non hanno diritto a nessuna tutela Parlo per esempio dei commercianti, dei piccoli imprenditori, degli operai di piccolissime imprese E se nell'occasione in cui si discuterà in aula questo strumento, non so come lo vuole chiamare Matteo Renzi Noi gli individuiamo più copertura economica Quindi mettiamo più soldi per arrivare anche a queste altre persone E loro non ce lo votano, saranno loro poi a non votare una cosa buona Altrimenti avremmo fatto una cosa buona per il paese Al netto di tutti gli errori che si possono fare Il Movimento 5 Stelle ha un merito Quello di riuscire a mettere in evidenza lo spread tra parole e fatti della politica Fino a pochi anni fa, io pure da cittadino, vedevo talk show, vedevo programmi politici In cui degli esponenti politici di partiti dicevano una cosa E poi andavano in aula e ne votavano un'altra E poi venivano nel talk show a spiegarci perché avevano detto una cosa e ne avevano votato un'altra In maniera anche abbastanza poco credibile Allora io ho sentito spesso nell'ultimo periodo anche Letta quando stava per finire il suo mandato Abortire il suo mandato da Presidente del Consiglio Sentivo dire quella frase io non mi farò impantanare Però la mia impressione è che il pantano siano proprio loro Cioè molto spesso non è tanto il sistema regolamentare la burocrazia A impedirgli di fare le cose Ma quelli che sono i conflitti interni Io ho visto la Boldrini mettere la ghigliottina sulla discussione del decreto Immun Banca Italia In una maniera che mi ha fatto capire che quando vogliono fare le cose lo fanno Le fanno, peccato che si fanno sempre quando si va verso grandi interessi come quelli bancari Assicurativi, delle lobby del gioco d'azzardo Le lobby del gioco d'azzardo oggi in Italia sono la lobby del tabacco degli anni 80-90 Sono potentissimi e hanno anche loro esponenti all'interno della politica del Parlamento Quando sono arrivato a Roma a 26 anni sono precipitato abbastanza presto Ogni tanto è stata un'esperienza proprio di quelli che arrivavano per la prima volta a Roma Nel Parlamento, nel Palazzo, nelle stanze del potere Ma Roma, ve lo dico proprio nel giorno della grande bellezza che vince l'Oscar È un po' corrompente, avviluppante il potere che c'è a Roma Che tenta di mettere in tentazione, addormenta anche Io faccio sempre questo ragionamento Se io fosse arrivato qui come indipendente Molto spesso abbiamo sentito parlare di candidati indipendenti nelle liste dei partiti Arrivato qui e fossi stato da solo Molto probabilmente il rischio che questo ambiente romano mi coinvolgesse Anche se dasse, ci sarebbe stato Invece faccio parte di un gruppo di 150 persone Un gruppo parlamentare in cui ci controlliamo a vicenda prima di tutto Poi siamo diventati amici, facciamo battaglie insieme Quindi questo rischio è meno possibile che ci sia questo rischio Ma questo è anche fuori dal palazzo Amicizie fuori dal palazzo Gran parte dei weekend, io non ho passato un weekend a Roma da quando sono stato eletto Perché li passiamo sui territori e finiamo qui alle 11 di sera Quindi anche il tempo per frequentare i salotti romani Quelli lì che poi creano questi intrecci di conoscenze e interessi Non c'è E quando c'è tempo stiamo insieme Andiamo a cena insieme tra deputati, senatori Andiamo a cena insieme La ringrazio